Allora, Presidente Di Miccoli, cominciamo dalla partita. Una vittoria importante, sofferta, che proietta il Barletta al secondo posto. Non un risultato utile consecutivo di meglio, non si poteva chiedere oggi. Sicuramente è un risultato importante, colgo l'occasione per dedicarlo ai diffusi che sono ritornati, che in questi momenti difficili sono stati il dodicesimo uomo in campo. E' stata una vittoria voluta, dove il merito va a tutta la squadra e ai ragazzi che ci hanno creduto dall'inizio e ci hanno messo cuore e anima. Il gruppo è l'elemento importante di questa Barletta, al di là di quelli che potranno essere gli arrivi, le partenze, però è il gruppo il fattore che ha trascinato la squadra fino al secondo posto in questo momento positivo che va avanti da nuove giornate. Sicuramente, la nostra forza è la forza del gruppo, sono tutti ragazzi, sono uomini prima di essere calciatori, ci hanno messo tutto, ci hanno messo il cuore. La loro forza è quella di stare tutti insieme, di fare gruppo, di sapere cosa vogliono. E' difficile adesso volare basso, nonostante si continui a predicare umiltà e calma, però la classifica parla chiaro. Beh, sicuramente adesso diventa una classifica importante, anche se da domani inseriamo a pensare alla prossima partita. Bisogna stare con i piedi per terra perché è un campionato molto difficile, un campionato che due vittorie ti fa stare in alto, due sconfitte ti può fare ritornare indietro. Bisogna accettare, è una vittoria importante come dicevo e niente, scusate ma sono un po' ancora a carico, stando in banchina sono ancora a carico. Sul mercato succederà ancora qualcosa in quest'ultima settimana? Beh, sicuramente noi qualcosa la stiamo guardando, nomi non ce ne sono, però qualcosina pensiamo di farla, vediamo un attimino come si mette, come l'evolversi del mercato. C'è anche una dedica particolare che volevate fare a Valter? Noi come società abbiamo portato la maglia numero 7 perché questa vittoria la dedichiamo in particolar modo a Rocca Augelli. Rocca Augelli che ormai sanno tutti che è un problema e che in settimana farà un'operazione. Siccome l'abbiamo conosciuto come calciatore ma soprattutto come uomo ed è un grandissimo uomo, noi ci auguriamo che questa vittoria sia di buon auspicio anche per lui e per l'intervento che andrà a effettuare. Quindi cercheremo anche di fargliela recapitare questa maglia che sia appunto di buon auspicio per l'intervento. Grazie.